Tutti i seduti in ombra di minato Non va bene A me non lo teni più seduto No Voglio stare in piedi Dove cercare di lavorare più collegando Solo collegando Proprio Fai conto che la moto è una bilancia Ha due pedane Prova piano piano Se sei così che vedi che ti siedi Però cerca di stare più in piedi che vuoi adesso Perché alla fine ho detto Se non riesco a neanche più attiare la frizione A avere male alle braccia Sì, perché comunque tu lavori molto Con le braccia, sei molto attaccato alla moto Molto appeso alla moto Quindi è quello che ti porta al discorso Di male queste braccia E se no, se tu la vedi con le gambe Come ha notato lui È venuto un po' male le braccia Molto male le braccia Cosa significa che ha lavorato più con le gambe Perché in certe curve Ti viene tra virgolette spontaneo Comunque Cerchi di farlo Poi salto e non mi vien da stringerle subito Eh però Tu hai fatto una curva bene Fare le altre bene Cosa cambia? Quella è la tecnica Non devi andare a tricilindare da niente Guarda che fine giornata Ce la fai E poi ti faccio fare un po' di giro in piedi E poi ti faccio fare un po' di giro in piedi E poi ti faccio fare un po' di giro in piedi E poi ti faccio fare un po' di giro in piedi